Musica Salve a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News Tante interviste nel corso di questa edizione della nostra trasmissione A partire da quella con Alessio Dionisi, il tecnico del Sassuolo che ha ricevuto il premio La Clessidra ad Anghiari in Toscana è stata l'occasione per fare un punto della situazione sulla sua squadra la formazione emiliana che non è partita benissimo pur avendo comunque offerto un bel calcio Sentiamo ai nostri microfoni Dionisi Alessio Dionisi, intanto il significato di questo premio che effetto fa? Ma è un bel premio, sicuramente ringrazio chi ha pensato a me e questo mi rendo orgoglioso lo devo condividere con tutte le persone che hanno permesso a me di vincere questo premio e quindi ai giocatori che hanno reso possibile ciò ai collaboratori, alla società e insomma tutti loro Inevitabile un bilancio delle prime sette giornate di campionato per questo Sassuolo che ha espresso anche un bel calcio poteva raccogliere qualche punto in più? Sì, sì, potevamo ma se lo vogliamo li recuperiamo nel senso che siamo in costruzione perché abbiamo cambiato qualcosa e quindi dobbiamo dar tempo attraverso le prestazioni e raggiungere i miei risultati ad oggi le prestazioni sono state positive i risultati altalenanti ma siamo ottimisti e fiduciosi Lei prima durante la premiazione ha detto che Ciccio Caputo è un po' insostituibile come tipo di giocatore però ci sono tanti ragazzi giovani, Scamacca, Raspadori quanto tempo gli va dato per crescere e per diventare titolari del Sassuolo? Sì, preciso l'insostituibile, cosa voleva dire che non siamo alla ricerca di un nuovo Caputo Ciccio ha dato tanto, per certi aspetti mi sarebbe piaciuto fosse rimasto ma è andato, è stata una scelta condivisa e noi abbiamo giocatori bravi con caratteristiche diverse non sono dei vice Caputo ma Giacomo, Gianluca sono giocatori bravi, giovani i giovani vanno supportati non possiamo pretendere tutto e subito da un giovane perché altrimenti faremmo il loro male fermo restando che sappiamo tutti che non c'è tanto tempo quindi dobbiamo cercare di ottimizzare la loro crescita attraverso le prestazioni e attraverso i risultati del Sassuolo contento del rendimento di Berardi, si è parlato tanto di questo calciatore? Sì, molto sono molto contento di allenarlo molto contento del rendimento è il giocatore che sposta di più nella nostra squadra un giocatore da solo non fa niente non ho mai visto un giocatore vincere da solo però è normale che ci sono dei giocatori in ogni squadra che fanno la differenza lui è uno di questi della nostra squadra me lo tengo e ce lo teniamo stretti fermo restando che anche domenica ha bisogno di una squadra alle spalle altrimenti un giocatore da solo può far poco o niente comunque non era scontato che ritornasse con la testa giusta subito pronti e attenti via dopo essere stato molto sul mercato quantomeno sulle voci di mercato si parlava che un giorno potesse andare via sulla scena di mezzo il discorso della Fiorentina altre squadre cioè non è così automatico invece lui è stato secondo me molto bravo a rituffarsi nell'avventura Sassuolo come se nulla fosse sì diciamo che se se ne è parlato tanto è per merito vuol dire che abbiamo un giocatore bravo ha vissuto un'emozione indescrivibile probabilmente la può descrivere solo chi la vive io non l'ho vissuta e dall'esterno immagino che sia un'emozione indescrivibile si è rituffato nella sua realtà la sua realtà al Sassuolo in questo momento e ripeto ce lo godiamo fermo restando che ad oggi abbiamo giocato solo sette partite quindi ne mancano ancora tante e molte di più e speriamo che Domenico continui a fare queste prestazioni si aspettava una Fiorentina così brillante la Fiorentina d'Italiano perché poi anche lui è un altro che ha un percorso alla Dionisi possiamo dire così cioè chi parte dal basso si ritrova poi alla Serie A e poi la Serie A se la deve guadagnare e se la deve meritare insomma ecco lui mi sembra che dopo l'esperienza Spezia sia partito bene assolutamente sì diciamo che più Dionisi alla Italiano perché lui ha già fatto la Serie A sì ha fatto un po' io ho fatto un po' il suo percorso ecco e devo fare i complimenti perché sicuramente la Fiorentina ha una bella impronta e credo che farà un buon campionato certo non sono qua a sentenziare per la Fiorentina o parlare della Fiorentina però sicuramente si nota si nota una Fiorentina diversa rispetto alla scorsa stagione e immagino che farà un buon campionato ecco l'ultima parte mia a mente fredda le valutazioni sul VAR sono le stesse di sabato scorso oppure è cambiato qualcosa? no ma come ho già detto dopo la partita si sbaglia sbagli i giocatori e possono sbagliare anche delle scelte gli arbitri nel senso mi dispiace solo che se c'è un VAR andrebbe tenuto in considerazione in tutti gli episodi determinanti l'episodio di Andanovic con De Frelle è un episodio determinante probabilmente è stato giudicato magari anche in maniera sbagliata però questo dico i risultati vanno accettati e alla fine se non abbiamo ottenuto il risultato è un risultato positivo il demerito è nostro perché abbiamo fatto una partita importante secondo me meritavamo di più e se non l'abbiamo ottenuto vuol dire che ci sono anche dei nostri demeriti ultimissima sorpresa dal Napoli 7 su 7 tanta roba sì complimenti al Napoli nel senso che posso dire dico che non è facile fare quello che ha fatto il Napoli è più difficile confermarsi e sicuramente chi giocherà col Napoli ora proverà in tutti i modi ancora di più a cercare di interrompere questa striscia molto positiva prima o poi si interromperà perché non le potrà vincere tutte ma vincere le prime 7 è una cosa da pochi quindi i complimenti li vanno fatti restiamo sempre ad Anghiari andiamo ad ascoltare altre valutazioni sul nostro campionato quelle di Giulia Mizzoni volto di Amazon Prime Giulia Mizzoni Amazon premio giornalista televisiva dell'anno qui a Sansepolcro che effetto ti fa? innanzitutto grandissima sorpresa quando Massimo Boccucci mi ha invitata non me l'aspettava assolutamente tanta gratitudine ovviamente felicità e soprattutto un ritorno alle origini per me con Massimo perché io ho cominciato la bellezza di 17 anni fa a scrivere per l'agenzia di stampa curata proprio da Massimo con il Corriere dello Sport con l'obiettivo di conseguire il mio tesserino da pubblicista neanche diventare professionista e quindi insomma mi dà l'idea di un cerchio che si chiude tanti anni di gavetta tante soddisfazioni e quindi insomma sono molto molto felice di questo un bel ritorno al passato insomma un bilancio invece sul campionato dopo 7 giornate che cosa ti senti di dire? che il Napoli si deciderà a perderne uno oppure no adesso Spalletti probabilmente mi detesterà se dovesse sentire questa intervista che dire c'è la sorpresa ovviamente non so quanto sorpresa di vedere una Juventus forse un po' in ritardo l'arrivo anzi il ritorno di Massimiliano Allegri visto come un messia il risolutore dei problemi della Juventus piano piano sta ingranando sta iniziando a sistemare le cose ancora un po' di ritardo per la Juventus c'è io dico occhio occhio perché secondo me c'è ovviamente il tempo per recuperare un Napoli che a dispetto di una scorsa stagione in cui probabilmente ha deluso le aspettative complici anche tanti problemi infortuni eccetera eccetera sta andando fortissimo mi aspetto molto soprattutto nella tenuta nel corso di tutto il campionato da questa squadra e dico se ho detto occhio la Juventus anche al Milan poi c'è l'intercampione in carica ragazzi che è temibile anche semplicemente per quello però in questo momento Napoli-Milan e aspetto la Juventus a proposito del Napoli è Osimène secondo te l'attaccante più decisivo fino a questo momento più sorprendente anche? anche qui è andata un po' la storia di Osimène di pari passo con quella del Napoli tanta sfortuna tanti problemi per questo giocatore nella passata stagione adesso è arrivato secondo me ad esprimersi a quelli che sono i suoi reali livelli e sta facendo la differenza assolutamente è un giocatore incredibile a proposito dell'attaccante che idea ti sei fatta sulla vicenda Vlaovic che non rinnoverà con la Fiorentina commesso ha raccontato il suo disappunto perché comunque ha fatto tanti sforzi per poter accontentare il giocatore dunque di Vlaovic si è parlato tanto in chiave mercato non soltanto per questa vicenda dico la verità sapendo anche come va un pochino il calcio moderno chiamiamolo così di questi tempi mi ero anche stupita della sua permanenza già al termine di questo mercato quello estivo da poco concluso l'idea che mi sono fatta è che un ragazzo giovane un ragazzo dalle potenzialità incredibili a volte quando si è così giovani così forti magari si può sentire e questo ovviamente con tutto il rispetto che merita una squadra una società come la Fiorentina che determinate realtà ci possano stare strette non lo so questo a me spiacerebbe non vederlo più in una Firenze che comunque l'ho sempre amato coccolato mi spiacerebbe dove pensi di vederlo così a sensazione bisogna vedere se le italiane riescono ad aggiudicarsi un giocatore di questo livello soprattutto perché dal punto di vista economico è un impegno gravoso e sappiamo perfettamente il momento che il calcio italiano sta vivendo non solo quello italiano anche quello europeo ci sono però ancora in ambito europeo secondo me delle superpotenze dal punto di vista economico è un giocatore che anche per caratteristiche fisiche non solo tecniche io vedo molto bene in Inghilterra un'ultima considerazione anzi previsione anche se è molto difficile farla oggi in Champions chi vincerà? La tua favorita aiuto aiuto che dire ce la faranno gli sceicchi dopo aver tanto 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 investito e quindi il Paris Saint Germain con questo trittico lì davanti di ragazzi fortini direi ovviamente mi riferisco a me Simbappé e Neymar o il Manchester City vediamo occhio anche però al Chelsea battuta dal resto con la Juventus però insomma una squadra che si rinnova ciclicamente e costantemente quindi non la darei per vinta Vedremo dunque che cosa succederà in Champions ad Anghiari è stato premiato anche Giovanni Scaramuzzino voce di tutto il calcio minuto per minuto su Radio Rai sentiamo anche il suo punto di vista sul campionato Giovanni Scaramuzzino voce di tutto il calcio che non ha bisogno di presentazione l'occasione qui a Sansepolcro è anche quella per fare un bilancio delle prime sette giornate di campionato che cosa ti senti di dire? è un bel campionato io ritengo che comunque il ritorno di diversi allenatori che vanno per la maggiore nel nostro torneo sia anche da sprone per quelli più giovani che propongono un calcio sicuramente diverso da quello degli anni scorsi a cui eravamo abituati il modello italiano credo sia più che mai in evoluzione quest'anno lo vediamo ecco per quanto riguarda la lotta a Scudetto il Napoli in testa alla classifica te lo aspettavi a punteggio pieno tra l'altro? a punteggio pieno no però il fatto che il Napoli con Spalletti potesse dopo che non sono stati venduti i migliori giocatori essere protagonista questo sì l'avvio di questo torneo lo sta dimostrando e secondo te ha le capacità la qualità la rosa profonda per poter davvero vincerlo questo Scudetto? sai adesso è difficile rispondere ma non per salvarsi in calcio d'angolo perché chiaramente il tutto dipenderà dalla Coppa d'Africa perché diversi suoi giocatori andranno via per questa manifestazione e se le loro squadre nazionali arriveranno in fondo sicuramente sarà un'assenza importante e significativa non possiamo definirla decisiva però sicuramente può essere un intralcio nel cammino del Napoli in ogni caso sembra essere uno Scudetto che si giocheranno in quattro squadre Napoli, Milan, Inter e anche Juventus? con Allegri mai dire mai perché la Juventus può non essere sicuramente quella delle ultime stagioni non lo è possono esserci molti giocatori che Allegri sempre in sella non avrebbe chiesto di poter allenare però io ritengo che la Juve vada inserita tra le pretendenti al titolo e questo filotto che ha iniziato lo dimostra non era quella la posizione della Juventus non è ancora questa perché io mi aspetto una Juventus che sappia rientrare però ci vuole la complicità delle prime il loro rallentamento nelle posizioni che contano per giocarsi il titolo in ogni caso sta trovando la quadratura la Juventus Allegri sta plasmando questa squadra secondo te? è un compito che rispetto agli anni scorsi è sicuramente più difficile più delicato ma Allegri ha tutte le possibilità e la Juventus nel momento in cui assisterà io credo la difesa e lo sta già facendo perché non ha preso gol nelle ultime due partite ad esempio possa essere veramente presa in considerazione per il traguardo massimo una tua valutazione anche sulla vicenda Vlaovic oggi il presidente commisso ha annunciato che non è possibile trovare l'intesa per il prolungamento del contratto del giocatore nonostante gli sforzi della Fiorentina ecco che valutazione fai su questa situazione? allora c'è una differenza rispetto diciamo agli altri addi più o meno annunciati vedi Milan con Donna Rumma eccetera la scadenza del contratto è nel 2023 c'è ancora il tempo per evitare chiaramente che il giocatore venga lasciato a parametro zero la Fiorentina può scegliere due strade o si impunta ma a chi conviene questo oppure cercherà già di guardarsi intorno e credo che nel momento in cui ormai il calcio va verso questa direzione non c'è la volontà dell'atleta del calciatore di prolungare ti devi rassegnare anticipando quelli che sono i tempi cioè evitando di essere messa con le spalle al muro nel momento in cui questa decisione viene resa effettiva e ufficiale e resterà in Italia secondo te Blauvic? Ma si era parlato dell'Atletico Madrid nell'ultima sessione e la Fiorentina lì si era impuntata perché appunto aveva definito incedibile il il Balcanico io ritengo che è più probabile che vada all'estero quindi niente Juventus secondo te? Ma sai la Juventus tutto dipende chiaramente da quanto sono in grado di farselo sborsare una Fiorentina che comunque fino al 2023 è coperta col giocatore ancora le sue carte da giocare ce le ha e adesso ci ha raggiunto in studio il direttore di Tiamfuradio Nicolocci e Carini è sempre un piacere ritrovarti buonasera buonasera a te buonasera a tutti tragitto lungo ma ci sono arrivato alla fine con fatica con fatica ma con un po' di affanno allora parliamo di mercato perché sono giorni caldi da questo punto di vista nonostante che la finestra sia soltanto a gennaio però comunque tra rinnovi tra mancati accordi per prolungamenti di contratto è chiaro che si torna a parlare di trattative anche di giocatori che in questo caso mi riferisco al caso Vlaovic ma non c'è soltanto quello dovranno essere rimpiazzati ma io credo che fondamentalmente ci sia un rinnovo in atto che sia solamente una formalità e quello di Paolo Di Bala questo diciamo lo possiamo dire che fondamentalmente è un rinnovo che ormai sta andando nella direzione giusta pochi dettagli ormai l'accordo raggiunto 8 milioni di euro base fissa 2-3 milioni di euro di parte variabile per un ingaggio tranquillo sicuro intorno ai 10 milioni di euro e questo diciamo è il rinnovo più semplice perché è un rinnovo già fatto sulle altre situazioni quella di Vlaovic l'hai già assolutamente approfondita anche in precedenza però ci sono dei giocatori che in questo momento sono un po' borderline uno di questi può essere Frank Si anche su Che Si la situazione è sicuramente molto congelata perché io credo che il Milan non rilancerà non rilancerà la sua offerta che comunque era già molto alta intorno ai 6 milioni e mezzo di euro a guadagnare il massimo nell'arco di 4-5 stazioni e ora vedremo che cosa succederà se il giocatore penserà di fare un po' di retromarcia e accettarlo oppure se eventualmente deciderà di andare avanti per la sua strada su Insigne ti dico Lorenzo secondo me c'è la novità più importante perché fino a qualche tempo fa il rapporto non ti dico che era freddino però fondamentalmente non si era affrontata la questione in maniera diretta o quantomeno ben precisa anche con incontri con la gente con il presidente oggi mi sembra che ci sia un colloquio disteso un colloquio sereno un affrontare comunque sia un argomento che è molto importante con la volontà di Insigne di rimanere al Napoli il Napoli comunque di provare a trattenerlo a determinate condizioni e qui lo spartiacque Lorenzo potrebbe essere veramente la Champions League cioè se il Napoli continua con questo trend di risultati che poi non è detto ovviamente che le debba vincere tutte da qui alla fine del campionato poi se le vince complimenti applausi a spalletti al suo gruppo però è chiaro che se il Napoli conferma di essere una squadra della Champions League anche fare un'offerta un po' più alta a Lorenzo Insigne il presidente dell'Aurentis potrebbe tranquillamente arrivarci questo non toglie che il Napoli a prescindere da tutto comunque sia cominci già a sondare il mercato per capire eventuali alternative in 30 secondi restando sul Napoli secondo te dovesse continuare con questo ritmo a gennaio potrebbe fare un tentativo per acquistare un terzino sinistro e beh questo insomma diciamo è un desiderio che c'è da sempre da parte del Napoli se magari dovesse uscire un giocatore ci potrebbe anche essere questa possibilità Emerson Palmieri era il primo nome non sarà più lui perché comunque concluderà la stagione a Lione se ci sarà però un'uscita il Napoli è un tentativo per me potrebbe farlo per cui ti dico di sì ma solo a questa condizione grazie al direttore Ceccarini siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione è stato breve lungo intenso come vogliamo definire però ci siamo divertiti quindi tornerai presto sì assolutamente anche perché quando hai bisogno lo sai rispondo sempre presente sempre assolutamente grazie a tutti per averci seguito buon proseguimento di serata a Grazie a tutti.